sotto a questo video vi andrò di lasciare un codice skin però voglio che ora tu vai a lasciare un bellissimo like perchè se questo video raggiunge 50 like vi andrò a regalare un codice skin quindi lascia un bellissimo like ora se anche tu vuoi un codice skin gratis di spiderman 0 quindi è una skin molto simile a questo spiderman qua quindi se anche tu vuoi ricevere questo perchè magari non hai vbac mi raccomando supportami con il codice con ingamer 582 lascia un video qui sotto nei commenti in modo tale che posso andarti a passare questo codice quindi mi raccomando ora vai a premere il cuoccio nello schermo perchè troverai un video dove potrai trovare questi xp glitch questi xp glitch ti aiuterà a livellare in questo nuovissimo passo G quindi vallola guardare e basta che premi su questa copertina che troverai qua c'è nello schermo quindi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi bye